Grazie a tutti. vediamo se ride quello sotto la riproduzione delle parole vabbè vai col quinto vai col quinto vediamo questo metterlo qua e cosa scopriremo sotto? oh ma sono tutti incazzati oggi vai 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 con il prossimo ultimo taglio e cosa ci sarà? aspetta 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 ridi 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 sai cosa faccio? me la rido io guarda sai cosa faccio questi qua?